Incidente aereo nei cieli di Milano. Come vedete in queste immagini di TM News, un dirigibile noleggiato dalla società Bono Corporation per voli pubblicitari e turistici sulla città ha urtato un pilone delle luci in fase d'atterraggio all'arena civica in pieno centro, strappando una parte del timone di coda. Il pilota, accortosi del danno, ha immediatamente preso quota per valutare l'emergenza, decidendo poi un atterraggio fuoricampo nella zona est di Milano, conclusosi per fortuna senza conseguenze per l'equipaggio. L'incidente è avvenuto durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa per pubblicizzare la Fondazione Veronesi per la lotta contro i tumori, sponsor principale. Sul posto sono giunte numerose volanti della Polizia e dei Vigili Urbani. L'accaduto ha causato anche ritardi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Linate.